Oggi prepariamo la ricetta tipica messinese, le sarda beccafigo. Trovate tutti gli ingredienti che occorrono nella descrizione del video. Sbattiamo le uova, tagliamo finamente la cipolla e prepariamo la nostra mollica condita con prezzemolo, aglio, pecorino e parmigiano misto o anche uno solo dei due. Passiamo nell'uovo la sarda, la fettina già pulita, aggiungiamo la mollica, passiamo l'altra fettina, la diamo ad adagiare chiudendo per bene i bordi e così proseguiamo per tutte le altre. Nel frattempo facciamo soffriggere con un po' d'olio a fiamma media la cipolla, aggiungiamo e aggiustiamo di sale, una volta un po' insaporita aggiungiamo i nostri piselli freschi o surgelati. E facciamo cuocere qualche minutino. Nell'altra padella invece a fuoco ben caldo, olio di arachidi, mettiamo le sarde. Aggiungiamo anche la salsa nel soffritto e facciamo cuocere aggiustando di sale e pepe anche con coperchio. Continuiamo la frittura delle sarde. Una volta fatte raffreddare stacchiamo la codina e le possiamo andare a mettere dentro la salsa. Facciamo cuocere un altro po' finché la salsa si sarà ristretta e si saranno ben insaporite anche le sarde. Potete utilizzare la salsa anche per condire la pasta e voilà il nostro piatto è pronto. Facile, veloce e soprattutto anche è molto economico. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia un like e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Alla prossima!